Il cuore di Dio si commuove per te. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici, con grande gioia iniziamo questo giorno con la parola di Dio che entra nel nostro cuore. Oggi nella liturgia ricordiamo il sacro cuore di Gesù e leggiamo il Vangelo secondo Giovanni capitolo 19 dal 31 al 37. Era il giorno della parasceve e i giudei perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato era infatti un giorno solenne quel sabato chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù vedendo che era già morto non gli spezzarono le gambe ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera e gli sa che dice il vero perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si compisse la scrittura non gli sarà spezzato alcun osso e un altro passo della scrittura dice ancora volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. A me. Carissimi amici oggi la liturgia ci presenta questo brano di Giovanni 19 quando Gesù è sulla croce per farci vedere che accade qualcosa di straordinario. Accade che tra l'altro Giovanni l'evangelista che è presente al momento della crocifissione infatti dice ho visto sto dando questa testimonianza sto certificando che quanto è scritto e sto scrivendo io l'ho visto con i miei occhi. Dice che uno dei soldati con una lancia colpi il fianco di Gesù e uscì sangue e acqua. Noi chiaramente pensando al fianco di Gesù pensiamo al suo cuore. Cuore che è anche il cuore di Dio Padre. Gesù è l'immagine del Padre. Gesù è l'immagine straordinaria per noi qui sulla terra di Dio per farci comprendere quanto Lui ci ama. Dal suo cuore, dal suo fianco esce sangue e acqua. Da sempre i padri della Chiesa hanno visto nell'acqua il segno del battesimo, della rinascita vita nuova e nel sangue il segno del sacrificio dell'agnello di Dio. Quindi del suo gesto straordinario di questa eucalistia che viene donata a noi. Oggi in Gesù, Gesù crocifisso, Gesù che muore per te e per me, perché non è una morte universale, è una morte con un obiettivo personale, per salvare te, per redimere te, per riempire i tuoi vuoti. Gesù sulla croce si è addossato tutti i tuoi pesi, tutte le tue catene, le tue oppressioni, le tue difficoltà, le tue crisi, le ha prese con sé, le ha inchiodate, le ha volute prendere consapevolmente, liberamente, perché sapeva che solo Lui ti poteva liberare. E con il suo grande amore, che è l'amore del Padre, restituire oggi a te una vita nuova. Infatti la liturgia ci propone il profeta Osea, capitolo undici. Quando Israele era fanciullo, io l'ho amato e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. A Efraim io insegnavo a camminare tenendolo per mano, ma essi non compresero che avevo cura di loro. Io li traevo con legami di bontà, con vincoli di amore. Ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia. Mi chinavo su di Lui per dargli da mangiare. Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione. Questo è Dio. Questo è il Padre che ha mandato a noi Gesù. E nel cuore di Gesù noi sperimentiamo oggi l'amore, la compassione di Dio. Compassione significa che viene incontro a noi, che ci sa capire, che ci sa comprendere, che sa come rialzarci. Questo è l'amore di Dio, questa è la sua forza. Oggi Dio viene a noi. Oggi Dio ti dice quanto ti ama, ti dice quanto tu sei preziosa ai Suoi occhi. Il suo cuore è commosso per te a tal punto da darti la mano, afferra la mano di Dio, aggrappati ad essa per camminare in questa fiducia. Dio al tuo fianco, Dio non ti abbandona. il suo figlio Gesù è con te, è al tuo fianco. E lo Spirito Santo oggi ti fa fare questa esperienza. Invocalo insieme con me. Vieni Spirito Santo. Abbiamo bisogno di te in questo giorno. Abbiamo bisogno di una nuova forza, di una nuova spinta in avanti. Io ho bisogno di sperimentare di essere amato da Dio. Spirito Santo, fammi sentire questo amore. Fammi sentire la concretezza della compassione di Dio. Soprattutto in quelle situazioni che oggi dovrò affrontare. Spirito Santo, guidami. Spirito Santo, illumina la mia vita. Donami di vivere da figlio. Un figlio amato dal Padre. Un figlio che prende, afferra la mano di Dio, la mano di questo Padre che mi solleva come un bambino alla sua guancia. Voglio sperimentare oggi questo amore straordinario. Vieni Spirito Santo e donami di incontrare nuovamente l'amore di Gesù morto per me. A te sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, ricevete questo bellissimo slogan di oggi. Il cuore di Dio si commuove per te. Perché tu sei prezioso ai Suoi occhi. Perché tu sei importante per Dio. Lasciati amare da Lui in questo giorno. Grazie per avermi accolto. Buona giornata e un caro saluto e un abbraccio da parte mia e della coinonia Giovanni Battista, oasi di Biella. A domani. Ciao. Parla Signore, perché il tuo servo ascolta. Parlami Signore, ti ascolto, ti ascolto.